...approvando la legge dell'evoca sottomobbice, istituto fondamentale per acquisire il consenso provvedente dei cittadini, ma che funzionerà solo in condizione, che poi, dopo il punto di partito, una volta che la decisione si è presa, l'opera sinalizzi e la volontà del Paese, dello Stadio, in questo caso, venga rispettata. E qui si torna nel momento, troppe volte, burocrazia, apparati e politica locale, soprattutto e non solo, blocca l'opera attraverso venti o qualche volta peggio, attraverso confondamenti da bene e proprie dignità. La legge obiettivo, superata e approcata dal nuovo codice, conteneva una previsione positiva, cioè che il 30% delle opere strategiche dovesse pericare nel mezzogiorno. Bene, passando dal programmato a realizzato, questa percentuale è scesa al 10%. Ecco perché bisogna dare allo Stato centrale più forza per superare le pastole locale. Qualcuno incendirà, e lo ha fatto, con risposta chiara avuta domenica scorsa, che il petrolio non è una risorsa strategica e che comunque non lo sono le infrastrutture ad esso dedicate. Altri hanno provato a dipingere questo governo come disattento sul fronte delle rinnovabili, ancora, in entrambi i casi, strumentalizzazioni e pregressi. Oggi l'Italia produce il 39% della propria energia delle rinnovabili. E qui, per carità di patria, non soffermo sull'altro ricorrente paradosso. Gli stessi che si occupano alle estrazioni di pericolo dei parchi olici, deduffano il paesaggio, i campi di fornità non sono brutti, i bandelli sovrati